Quello che lei diceva, lavorare tutti insieme, ha fatto fan vertice tra maggioranza e opposizione perché naturalmente in qualche modo bisogna condividere una posizione. Perché lei non chiede di partecipare? Non sarebbe importante essere stasera a dire la sua? No, no, ma noi ci siamo. Come Italia Viva ci saranno. È giusto che ci sia questo. Però lei è il leader vero Italia Viva, non è che ci ha paesi molto tanto girare attorno. Questo tavolo che ha convocato Conte, che è stata un'ottima idea, è una cosa che abbiamo fatto anche in passato chiamando i capigruppo della Camera e del Senato di tutti i partiti, maggioranza e opposizione. Quindi benissimo che ci sia questo tavolo. La cosa importante è che si vada con un'idea chiara. La mia idea chiara è, occhio, l'Italia non può girarsi dall'altra parte. Uno dice, no, ma pensiamo ai fatti nostri. Chi vi dice così vi frega? L'Italia è un grande paese che ha un ruolo in Africa, che ha un ruolo nel Mediterraneo e che in particolar modo per storia e cultura ha un ruolo in Libia. Occhio a non lasciarla in mano da chi. Le propongo due frasi. Una l'ha detta il Premier, parliamo con tutti non per ammiguità ma per alimentare il dialogo. L'altra l'ha detta il capo dell'opposizione, se dai ragione a uno il lunedì e all'altro il martedì finisce che fai incazzare tutti e due e poi succede che chiamano i turchi. Da che parte deve stare l'Italia? Lo dicate nettamente perché io, se devo dirgli la verità, mica l'ho capito tanto bene le parole di Conte, da che parte siamo noi? Noi dobbiamo stare dalla parte di quelli che difendono sicuramente la pace, il dialogo, tutte le cose che diciamo sempre, straserio, ma che non possiamo permettere in nome della difesa generica del volemose bene che una zona di influenza italiana smetta di essere tale. Allora, uno, l'ho detto chiaro, no alla leadership turca in Libia. Due, l'Europa deve battere un colpo, svegliarsi un po'. Ora qui la discussione è mattina, non ha senso farla così, però è un grande tema perché c'è tutto il tema del petrolio, voi dite ah ma il petrolio non è importante. Invece l'autosufficienza energetica cambia le strategie politiche. È un tema molto complicato. In Libia bisogna stare con Haftar o con Al Sarraggi? Noi abbiamo per tre anni scelto una linea in qualche misura di promozione di un dialogo tra le forze tutti, per evitare che la Libia fosse divisa, perché poi ci sono alcuni, per esempio gli inglesi, che da sempre vogliono spezzettare la Libia. Un pezzo lo prendi te, un pezzo lo prendono gli altri e così facendo l'Italia è fuori. Allora noi abbiamo sempre lavorato in questa dimensione, oggi io credo che la ricomposizione sia impossibile tra Haftar, questa è la mia opinione, però io non voglio fare il maestrino che spiega cosa si deve fare e come si deve fare, dico una cosa semplice, no all'influenza turca in Libia e quindi Italia batti un colpo, Europa facci vedere se ci sei.